Siamo certi che il vostro gesto contribuirà a portare avanti i loro progetti e in particolare quelli a cui il babbo e la mamma hanno dedicato la loro vita. Così i figli di Carlo e Gabriella Spini, i coniugi di Sansepolcro morti nel disastro aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo, entrambi membri dell'associazione Africa 3000, di cui Spini era anche presidente. Un drammatico schianto nel quale persero la vita 155 persone, tra queste anche il tesoriere della Ollus, Matteo Ravasi. Adesso, ad un mese di distanza dalla tragedia, i figli della coppia Andrea, Francesco, Marco ed Elisabetta hanno deciso di ringraziare apertamente tutti coloro che in questo mese hanno condiviso il loro grande dolore e contribuito a portare avanti il grande lavoro cominciato dai genitori in Africa attraverso l'associazione. Ogni vostro pensiero rappresenta per noi una testimonianza d'affetto anche per la vita dignitosa dei nostri genitori che devono essere ricordati come persone normali che hanno saputo dare e darsi amore incondizionato. Ad accompagnare le parole dei figli anche quelle del Consiglio Direttivo di Africa 3000 che ha voluto dare conto pubblicamente di quelle che sono state le donazioni e le attività intraprese grazie al supporto di tantissime persone che in seguito alla tragedia hanno voluto esprimere solidarietà al lavoro della coppia aderendo alla sottoscrizione lanciata da Tigila 7. Carlo e Gabriella, quel drammatico 20 marzo, infatti, stavano raggiungendo Nairobi per poi recarsi in Sud Sudan per allestire di inaugurare l'ospedale realizzato da Africa 3000. I fondi raccolti adesso saranno destinati all'acquisto di medicinali e per la dotazione di un'ambulanza fuoristrada 4x4 adatta a quelle strade. L'ospedale sarà dedicato ai due coniugi, prenderà il nome di Triangels Health Center.